Mi racconti un po' della situazione in Afghanistan prima che si trasferisse qui? Non passo molto tempo a pensare. Perché? Troppo occupata con la vita sociale. Grazie. I messaggi della fortuna non devono essere felici, né tantomeno tristi. Alcuni cercano la felicità, tu creala. Non incontro nessuno. Non accontentarti. Ti serve qualcuno di speciale? Ammiro le persone che come lei hanno storie di coraggio e migrazione da raccontare. Indovini chi è l'eroe immigrato che adoro di più. Zanna Bianca. Il cane? Da dove vieni? Vengo dall'Afghanistan. Sei la prima afghana che incontro. Sembrate persone amichevoli. Lo siamo. Io non sono un buon esempio. È normale sentirsi soli a volte. Sarebbe strano se le persone non pensassero ad altre possibilità. Ad altre persone. che si viveva in un mondo. Tu ami te stessa? Allora devi dirlo ad altavoce. Amo me stessa. Molto bello. Grazie a tutti.